Il bitonto riparte da una novità e da una conferma. Alessandro degli Esposti, nuovo direttore sportivo, mister Roberto Taurino ancora sulla panchina neroverde. Arrivato luglio e messa alle spalle la stagione 2019-2020 che ha decretato la storica promozione in Serie C per la prima volta in assoluto, il bitonto inizia a guardare al futuro muovendo i primi passi della programmazione verso la sua prima apparizione tra i professionisti, annunciando la prima grossa novità del nuovo corso e confermando uno dei protagonisti dell'incredibile cavalcata nel girone H di Serie D. Alessandro degli Esposti sarà il nuovo direttore sportivo, andrà a ricoprire il ruolo ricoperto fino ad oggi da Leonardo Rubini che però resterà ugualmente nello staff dirigenziale. E lui dunque il primo volto nuovo del bitonto targato 2020-2021. Umbro di Spoleto, degli Esposti laureato in sociologia, ha indossato la casacca da calciatore fino ai 28 anni, ma poi si è tuffato nel percorso di dirigente sportivo ed osservatore, partendo dalla sua terra, con Spoleto, Sportic Terni, per poi arrivare in Serie B con la Ternana. Dopo l'esperienza con la maceratese, lavora al fianco del direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano, in qualità di osservatore nazionale per la formazione ducale. Nelle ultime due stagioni, degli Esposti e prima di essere dell'audace Cerignola in D, poi torna in Serie B come collaboratore dell'area tecnica del Pescara. Con degli Esposti dunque il presidente Francesco Ronziello amplia la struttura dirigenziale e si affida per il mercato ad un uomo di sicuro affidamento e comprovata esperienza. Da un lato una novità, dall'altro una conferma. Mister Roberto Taurino siederà sulla panchina del bitonto anche nella prossima stagione. Confermato pure lo staff a supporto dell'allenatore, che ha guidato in eroverde la conquista del professionismo. Gigi Anaclero sarà il vice allenatore, Gianni Iurino il preparatore dei portieri, il prof Polo Rizzo il preparatore atletico. Il direttore sportivo degli Esposti e Mister Taurino col suo staff verranno presentati ufficialmente in occasione di una conferenza in programma martedì 7 luglio alle ore 19 presso la sala stampa dello stadio Città degli Olivi di Bitonto e che Radio Doppio Zero seguirà in diretta.